3, 2, 1, via ragazzi, in bocca al lupo, buona gara, venga il migliore e cercate di divertirvi, anche voi che... ultimo giro! A destra! Nicolari! Ehi! Oh, come è che posso! Nicolari, onda! C'è un gruppo che entra su questo lungo avvialone d'arrivo, è partita questa lunga volata, è partita questa lunga volata, meno di 50 metri da da guarda una maglia a colpa! che è Bonifazio che vista il gruppo che entra su questo lungo vialone d'arrivo è partita questa lunga volata è partita questa lunga volata meno di 50 metri da Toguardo non ha gli accolta che è Bonifazio Bonifazio il popolo allegri vai grazie benissimo bravi a tutti